Siamo arrivati al discorso di buon anno a tutti noi da Giuglia e soprattutto da RDA1 e Stamperadio Marco qua da Udine vi auguro veramente un buonissimo soprattutto buonissimo dico poco non è poco ma buonissimo anno per tutti voi perché avete proprio veramente bisogno di lavoro di salute di speranza di trovare diciamo anche la compagna da vicino come la penso io e soprattutto anche la volontà di avanzare e di essere positivi per questo anno nuovo 2020 un anno che spero tantissimo che sia diverso di quello che è passato abbiamo visto crisi ancora e anche mai che ce n'è non sembra di no ma ce n'è ma soprattutto spero tantissimo di trovare positività lavoro e salute a manetta e soprattutto anche la positività di vuole di vuole andare avanti io ne ho bisogno tantissimo ma mi rispetto tantissimo non essere prestato presente in questo mese dicembre 2019 ma per motivi impegnativi e anche un po' di salute come avete sentito anche nelle varie puntate fermato con un po' di informato anche la lingua non ero ben messo però io spero come dico da proprio fra un paio di ore dal 2020 in poi dal prossimo anno sia fondamentale positivo da tutti me compreso e da tutti voi io vi auguro un buon 2020 di salute positività lavoro pazienza ma soprattutto tanta tanta buona volontà è tutto mandi mandi ciao 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 ciao